bentornati sul mio canale prima di vedere l'occorrente per il progetto di oggi vi ricordo l'iscrizione che è completamente gratuita questa funzione aiuta soprattutto chi è appena arrivato sul mio canale che se non si iscrive oppure non attiva la campanella purtroppo non riuscirà più a vedere i miei video quindi se ti piace qualcosa di quello che io crei o qualcosa dei miei tutorial e desideri vederli in seguito l'unico modo per tenerci in contatto è l'iscrizione che completamente gratuita adesso vediamo l'occorrente per il progetto di oggi ci serve il metro l'uncinetto tre a mezzo un paio di forbici soprattutto nel cambio dei gommitoli piccola parentesi per chi desidera potrete prepararvi anche dei bottoni io personalmente non li andrò a utilizzare per una questione mia di gusti vediamo subito il filo questo magnifico filo che filato che ho tra le mani con questi magnifici colori che voi dal vivo ancora forse non l'avete conosciuto è ancora più intenso più particolare è il coton fiocco e quello sfumato praticamente abbiamo del bianco abbiamo del asuro ma non è asuro è una sfumatura del turchese per quanto mi riguarda poi c'è del grigio chiaro che questo qui grigio leggermente più intenso poi un cenere perché sembra un blu un po cenere non è un grigio e il nero è il risultato di questo filo quando viene lavorato cambia in base al punto all'uncinetto che andate utilizzare quindi veramente una grande sorpresa oggi ci andremo a divertire con un punto che sicuramente conoscete già è un punto che ho utilizzato in due progetti un punto che ho adoro e spero tanto che vi piacerà a mi ero dimenticata andremo a fare una bella giacca prima di partire col progetto in sé vi devo dare indicazioni per quanto riguarda le misure e soprattutto ancora non vi ho svelato il punto ma sicuramente qualcuno lo intuisce intanto vediamo come si fa andremo a lavorare fino a questa altezza quindi un pannello un pannello rettangolo dove andremo a montare tutte le catenelle necessarie per arrivare al circonferenza più ampia quindi la circonferenza maggiore che può essere se non se avete desiderio di creare una giacca corta oppure i fianchi se la giacca vi copre anche i fianchi quindi voi scegliete tra la parte più alta dove c'è il seno o i fianchi dove ci sono i centimetri maggiori quindi in base a quelli vi riuscite a gestire con tutto il progetto nel mio caso sono ho preso i centimetri del seno che sono 86 centimetri in realtà sono stata un po più abbondante perché non voglio che mi stringa voglio che sia comoda e ho caricato 141 catenelle quando si hanno i multipli come in questo caso che il multiplo di tre voi dovete avvicinarvi ai centimetri non dovete essere precise anzi se ne aggiungete un paio di centimetri in più ancora meglio quindi io sono andata a caricare nel pezzo originale 141 catenelle ok per sviluppare il mio motivo e la mia giacca quando arrivo all'altezza necessaria qui andremo praticamente a dividere il pannello in tre parti abbiamo un quarto davanti abbiamo la schiena alla parte della schiena delle spalle e l'altro quarto davanti che questo ok perché qui dove vedete queste striscioline sono le maniche praticamente si tratta di questo spazietto dove noi andremo a creare le maniche per chi le desidera perché non le desidera preferisce un gilet non c'è bisogno che faccia questo passaggio ma tanto lo sapete già lo all'altezza quindi qua è di circa 20 centimetri quindi una manica abbastanza comoda abbastanza larga non è precisa quindi questo è un progetto adatto per tutte le taglie è normale che chi desidera delle maniche un po più strette sta più preciso qui nei centimetri chi desidera delle maniche ancora più larghe finisce di lavorare un po prima ok quindi molto versatile io l'ho pensato più che altro per una taglia unica quindi adesso come primo passaggio andremo a caricare tutte le catenelle necessarie multiplo di tre mi raccomando per arrivare alla vostra circonferenza poi vi darò le indicazioni per quanti giro fatti e quali sono i centimetri in altezza ai quali dovremmo aggiungere le maniche per quanto mi riguarda sono più o meno 20 centimetri bene prendiamo un uccinetto prendiamo il filo e ci mettiamo all'opera io per una questione pratica ma anche perché è difficile mettere il pezzo originale nel nella camera quindi nell'inquadratura vi faccio un campione dopodiché sarà facilissimo svilupparlo anche sul la giacca originale adesso andremo a caricare un multiplo di tre per quanto mi riguarda sono 15 catenelle quindi facciamo il nodino iniziale come al solito mi raccomando la catenella non dovete tirarla quindi dovete stare larghe quindi una due tre quattordici e quindici ne aggiungiamo un'altra per poter iniziare il lavoro quindi sedicesima non si conta perché io non la conto mai facciamo un punto basso rientrando nella quindicesima in questa maniera poi facciamo una due e tre catenelle andiamo a caricare 1 2 e 3 e andremo a fare 15 maglie altissime in realtà abbiamo tre carichi quindi non saprei come definirla forse una tripla maglia non lo so carichiamo quindi tre volte scarichiamo tutte le volte due a due quindi saranno quattro quindi uno due tre e quattro questa è la nostra prima riga quindi continuate a lavorare tutte le maglie necessarie per la vostra circonferenza nel mio caso nel pezzo originale che fra poco vi farò vedere sono 141 punti ho lavorato per 14 punti quindi andiamo a fare anche il quindicesimo insieme e così vedete come si conclude la riga come vedete la sfumatura è già cambiata è fantastica veramente molto molto bella a questo punto giriamo il lavoro i primi tre punti sono uguali identici quindi entriamo e facciamo punto basso poi una due tre catenelle carichiamo tre volte andiamo a fare anche i prossimi due punti uguali identici in realtà saranno i nostri laterali della giacca questi tre punti ci seguiranno per tutto il lavoro scusate mi manca un giro qui caricato su due volte quindi scarichiamo anche questi e questi sono i primi tre punti i primi tre gli ultimi tre sono uguali identici adesso andiamo a caricare sempre 123 andiamo a fare il punto fantasia che adesso ve lo svelo si tratta del punto presidra vi avevo promesso un progetto di abbigliamento con quel punto ed eccolo che è arrivato adesso andremo a fare metà di una maglia alta carichiamo prossimo punto metà di una maglia alta tenete tutto sull'uncinetto carichiamo e facciamo la terza metà di una maglia alta ok a questo punto prendete il filo scaricate le prime tre e anche la quarta che era già solo uncinetto andiamo a finire il punto presidra facendo la prima maglia alta carichiamo entriamo qui dove abbiamo chiuso quindi vedete che ci sono questi quattro tre asole facciamo anche la seconda maglia alta carichiamo passiamo sempre qui dove abbiamo chiuso quindi cercate di non stringere troppo e facciamo anche la terza male alta quindi a specchio vedete e si crea questo vortice bellissimo che a me piace tanto e questa è la parte dietro che comunque andremo a lavorare di andate di ritorno quindi avremo un punto presidra sul davanti e nella riga successiva sarà su di dietro però non vi preoccupate perché è bello andiamo a fare anche il secondo adesso che vi ho svelato il punto ho messo anche il pezzo originale sotto così non serve la sorpresa insomma aveva svelato già tutto quindi andiamo a fare secondo punto caricando 1 2 e 3 volte andiamo nel primo punto disponibile sulla base facciamo metà di una maglia alta carichiamo seconda metà di una maglia alta carichiamo terza metà di una maglia alta adesso chiudiamo i primi tre più 1 quindi 4 rimaniamo con tre asole sull'uncinetto quindi dobbiamo fare la prima maglia alta carichiamo entriamo sempre qui dove abbiamo chiuso quindi prendiamo tutte quattro devo fare la seconda maglia alta carichiamo e facciamo la terza maglia alta ormai lo conoscete sicuramente chi mi segue lo conosce già però per chi è appena arrivato è giusto che io gli spieghi come si lavora a questo punto adesso vado a fare anche l'ultimo di del mio motivo e chiudiamo la riga questa è la mia giacca originale in realtà è solo quel rettangolo dove dovremo andare a dividere per le maniche per la schiena però volevo far vedere come si sviluppa noi colori dentro il comitolo come vedete qua c'è il grigio chiaro l'asuro il turchese schiarito non saprei come definirlo perché è veramente bello sembra smeraldo ma è molto leggero il bianco e nero il fumo insomma ci sono tutti colori che ho fatto vedere prima e io volevo far notare anche i margini come vedete l'avvio e la fine della riga finisce sempre con tre maglie altissime sia da una parte che dall'altra della mia giacca comunque quando viene indossata lo vedrete meglio adesso andiamo a finire anche noi praticamente la prima riga di lavoro messo un attimo a fuoco così vedete tutti i passaggi quindi 123 abbiamo caricato tre volte andiamo a fare anche il secondo punto altissimo poi 123 e facciamo l'ultima maglia altissima come vedete mano a mano che si va a lavorare la sfumatura cambia è normale che in base al punto che si sceglie io ho scelto un punto molto importante quindi le sfumature risultano leggermente più corte rispetto a un punto più corto come il punto basso la mesa maglia iniziamo la terza riga scusate quindi sempre punto basso poi 123 carichiamo andiamo a fare i due punti rimasti di maglia altissima vi rifaccio vedere un attimo il primo punto che si da dopo di che vi lascio lavorare da sole per quanto riguarda questa parte che avete sotto che la parte più rettangolare più lunga adesso andiamo a lavorare a specchio quindi prendiamo comunque tutti i punti disponibili che abbiamo sulla base però è più facile da definirli perché andrà punto su punto clessidra quindi non sono come dire sfallati va uno sopra l'altro finita la base iniziamo a lavorare nella parte più alta del punto sempre entrando qui con uncinetto come vedete e facendo la maglia alta così semplicemente adesso si carica 23 e si continua con il prossimo punto quindi molto molto facile è un punto molto veloce cresce velocemente quindi sarà un piacere per voi lavorarla e soprattutto è molto versatile perché si può fare un po di tutto abbiamo fatto le borse stiamo facendo abbigliamento il cotone ma si può utilizzare benissimo anche lana o acrilico con dei filati più importanti e invernali quindi adesso questo mettiamo da parte e ci occupiamo del pezzo originale questa è la mia giacca originale mi sono fermata sulla parte in basso riprendo un attimo la grafica che vi spiego dove sono arrivata praticamente io sono arrivata qui quindi ho lavorato tutta questa porzione che comprende davanti e dietro tutto insieme tutto un pannello adesso negli ultimi 20 22 centimetri questi qui li dobbiamo dividere in tre parti che comprende un quarto davanti la parte della schiena e l'altro quarto davanti di conseguenza lo dobbiamo dividere come vedete c'è già qui un marca punti poi un altro quindi li ho già divisi adesso vediamo in che modo è da dividere prima di tutto io non so quanti punti avete quindi dovete seguirmi nello schema su come dividerlo andate a contare i motivi io ne ho ben 47 quindi il mio punto 24 partendo da una parte all'altra che quello centrale l'ho marcato quindi sono rimasta con 23 punti da una parte crescita però compreso i laterali perché comunque sempre un multiplo di 3 e 23 dall'altra parte detto ciò ho piegato il mio lavoro quindi ho messo i margini qui anche l'altra parte e sono arrivata a metà però noi donne abbiamo sempre la difficoltà a chiuderle i lavori sul davanti perché abbiamo il seno rispetto agli uomini che hanno difficoltà sulla parte della delle spalle che sono più larghe quindi un uomo ha bisogno di più punti sulla schiena una donna ne ha più bisogno sul davanti quindi mi son detta visto che ne ho 23 quindi voi ne potete avere che ne so 24 25 non per forza dovete avere i miei punti sta a voi decidere dovete far sì di lasciare un punto centrale allora io mi son detta lascio un punto in più sul davanti quindi ne ho 12 da questa parte compreso il laterale e 10 da questa parte fino ad arrivare al marca punti giallo perché comunque sulla schiena c'è sempre se sta leggermente più stretto un lavoro non è un problema quindi io ho marcato questo punto quindi 10 una parte e 12 dall'altra questo discorso vale anche per quest'altro lato ok sta a voi in base al vostro fisico a decidere se lasciarne di più sul davanti o fare uguale identico adesso vediamo come si lavorano prima di tutto marca punti giallo non ci serve più riprendiamo il filo l'uncinetto e vediamo come si lavora sapete il punto che sidra non ha un modo di alzarci quindi ci serve comunque un appoggio allora io uso proprio il punto marcato sia per quanto riguarda i quarti davanti che la schiena per riuscire a risolvere questo problema quindi qui ho tagliato il filo quindi la prossima riga andrebbe in questo lato qua quindi seguiamo lo stesso verso prendo il mio filo perché io preferisco lavorare la schiena poi concentrarmi sui quarti davanti magari se ci sono delle dimensioni da fare entriamo vedete che sono uno due tre punti che il classico punto che si da lasciamo quello centrare che lo andremo a riprendere quando faremo le maniche andiamo in quello più vicino alla parte della schiena quindi prendiamo il nostro cappietto e facciamo una due due tre e quattro catenelle volevo dirvi per quanto riguarda i cappietti questa volta li andrò a nascondere in seguito con l'ago carico 1 2 3 e vado a lavorare semplicemente i miei punti che sidra per quanti centimetri dipende dalla vostra taglia per quanto mi riguarda 20 cm 22 cm mi bastano per avere un giro manica più che sufficiente quindi anzi è più largo che stretto perché per la mia taglia che una m mi basterebbero anche 18 cm adesso non dovete fare altro che lavorare punto che sidra su punto che sidra fino ad arrivare al prossimo marca punti vi faccio vedere questa riga vi faccio vedere la seconda dopodiché in altezza si lavorate da sole voglio finire l'ultimo punto che sidra con voi prima del marca punti così vedete insomma il passaggio fondamentale e sapete anche come gestirvi dopodiché vi lascerò come ho detto prima a lavorare da sole e ci ritroviamo per i quarti davanti a questo punto carico sempre tre volte e vado qui vedete che ci sono tre punti quindi tutto il punto che sidra vado sul primo vado a fare la maglia altissima giro già il mio lavoro per seconda per la seconda riga sulla schiena quindi punto basso e 3 catenelle sapete già che si lavora appunto su punto come per il pannello sotto per quanti centimetri come ho detto prima dipende dalla vostra taglia se voi sette una s vi bastano anche 17 cm se siete una m di sotto e così via oppure se avete il piacere di avere delle maniche un po più larghe come le mie fate 20 cm 22 quello insomma non è un problema non cambia niente per quanto riguarda il modello della giacca semplicemente una questione di gusti adesso io vado avanti a finire questo pezzettino qua magari faccio già un quarto davanti per aiutarvi nel prossimo e ci ritroviamo per vedere come si fa a sistemare la giacca come notate ho proseguito il progetto quindi ho finito il quarto davanti ho fatto la cucitura qui sulle spalle e ho avviato anche la prima manica per quanto mi riguarda è corta perché anche il modello della giacca è corto è normale che come ho detto nella parte iniziale decidete voi in base ai vostri gusti alla vostra taglia come la volete perché facciamo finta che volete rifarla con un filato invernale sicuramente vi farà piacere avere caldo sulla schiena quindi sui fianchi di conseguenza sicuramente un progetto un po più lungo di conseguenza anche le maniche saranno lunghe e non corte quindi questo è sempre un piacere vostro personalizzarlo come più vi conviene e come più vi piace indossare le cose io l'ho lasciata corta anche perché ho finito il filato e sinceramente non vado a fare un ordine di filati estivi adesso perché non mi conviene aspettiamo la prossima stagione intanto c'ho il mio gomitolo per finire anche questa parte e così lo andiamo ad avviare insieme quindi io ho finito con la parte dietro come vedete che da qui perché l'ho già chiusa quindi questa è la parte dietro qui tutta questa fino ad arrivare a questo punto qua è la parte dietro ho fatto il quarto davanti fatto la cucitura quindi metà della giacca è finita come ho detto prima per avviare l'altro quarto bisogna tenere come riferimento dove ho finito la parte dietro e come vedete l'ho finita qui di conseguenza per avere le stesse righe e non avere il davanti i quarti davanti col davanti il dietro a rovescio praticamente devo iniziare a lavorare dal punto in cui ho finito quindi continuo da qui e non vado a iniziare dall'inizio quindi da questa parte qua perché se inizio qui come ho detto quando io vado a chiudere la giacca che sarà più o meno così avrò le righe che non combattono quindi mi ritrovo una su davanti una su dietro eccetera e non è bello da vedere mettiamo che questo film è particolare perché sfumato quindi sicuramente non si vedrebbe benissimo la differenza però se fosse lo stesso colore quindi un filato unico la differenza si vedrebbe molto di più e non è bello quindi fate sempre attenzione quando fate dei modelli simili di iniziare nel verso in cui avete finito prendiamo il filo l'uncinetto e andiamo ad avviare anche il quarto davanti seconda ho già fatto il nodino al filo come vedete e vado ad avviare il quarto davanti il secondo praticamente perché il primo è già fatto per avviarlo vado qui siccome abbiamo lasciato un motivo quello segnato intermedio che andrà a unirsi alla manica vado qui praticamente questo come vedete già lavorato per il qua per la parte dietro che c'è la mare altissima lasciamo il punto in mezzo ci avviamo nel secondo quindi prendo semplicemente l'asola e vado a fare 1 2 3 e 4 catenelle carico 1 2 e 3 e vado a lavorare punto clessidra su punto clessidra in questa maniera qui praticamente era più importante farvi vedere l'avvio cioè il verso da dove si parte quindi da qui e non da qui che è quello che c'è da fare perché quello che c'è da fare è semplicemente continuare col punto clessidra di andata e di ritorno per quante righe adesso ve lo dico subito ho proseguito il mio quarto davanti ho lavorato per sette righe dopodiché mi sono fermata adesso vi dico anche quante righe ho fatto per la parte dietro praticamente per la parte dietro quindi da qui vedete c'è marca appunto a cui ho lavorato per nove righe sono circa 19 centimetri e mezzo 20 centimetri che sono quelli iniziali che avevo previsto qui nel quarto davanti come osservate a un certo punto io ho lasciato le tre righe scusate i tre punti a maglia altissima e due motivi in realtà tre perché sto lavorando solo un punto quindi tre motivi ho fatto questo e ho lavorato altre due righe quindi per un totale di 9 quindi 7 più due perché volevo dare un attimo nel giro collo della zacca per farla un po più comoda di conseguenza cosa è successo ci siamo lasciati qui che avevo iniziato il secondo punto e ho lavorato di andata di ritorno per sette righe e quindi adesso devo iniziare a lavorare le ultime due invece di tagliare il filo perché sapete che non mi piace praticamente vado a camminare a maglia bassissima quindi entro nei punti in questa maniera qua in ogni punto cercate di non stringere in questa maniera fino ad arrivare a 1 2 3 4 quindi io conto già come un punto per con molti politiche quindi devo arrivare qui se questa cosa non mi piace ok che diciamo che non mi piace perché magari la sfumatura va a finire male fatto in questa maniera semplicemente tagliate il filo che è quello che vado a fare io in questo momento però vi ho fatto vedere anche l'altro metodo caso mai avete un monocolore per non stare a tagliare il filo quindi adesso lascio i tre punti quindi sono questi 123 poi faccio 123 quindi io devo iniziare lavorare qui semplicemente vado ad alzarmi sempre con una maglia altissima quindi riprendo il filo facciamo l'asola punto iniziale e vado a fare 1 2 3 e 4 catenelle carico 123 questa maniera e vado a lavorare i punti questo per solo due righe dopo di che ci ritroviamo per fare la cucitura sulle spalle sto finendo anche questa seconda riga quella più corta praticamente quindi carico per fare la maglia altissima a questo punto dobbiamo andare a fare la cucitura adesso io devo girare il lavoro perché la cucitura la devo fare all'interno quindi come vedete questa sull'esterno mi è capitato proprio di avere il filo più chiaro sulla parte del filo nero però per me non mi dispiace perché tanto tutta sfumata quindi a questo punto come vedete qui c'è lo scalfo della manica posizioniamo i fili in questa maniera e andiamo a contare un attimo i motivi dall'altra parte era più facile perché mi trovavo proprio dalla parte dell'inizio quindi adesso sono 1 2 3 4 5 6 7 8 quindi io vado a lavorare il primo punto basso prendendo questa asola che ha a che fare con il punto ottavo quindi vado a fare un punto basso semplicemente è una chiusura facendo dei punti bassi prendendo praticamente una parte della giacca anche la il quarto davanti quindi semplicemente una cucitura di questo genere non sono andata a usare né aghi e né cose particolari e il davanti ve lo faccio vedere dopo questa cucitura ve la portate fino alla fine qui della riga dove tagliate il filo e magari facciamo un nodino con la parte restante ci ritroviamo per avviare la ma ho fatto la cucitura quindi mi sono sono arrivata praticamente qui alla fine come ho detto prima faccio un nodino dopo di che lo andrò li andrò insomma nascondere nella adesso vi faccio vedere il risultato ed è questo senza volere praticamente mi sono ritrovata con una cucitura col filo nero invece di averlo bianco e qua dove c'era nero ma perché è un filo sfumato quindi questo è il bello proprio adesso giriamo la giacca sul davanti ok quindi vedete che la sto girando e ci mettiamo qui alla base dove c'è il marca punti che adesso togliamo riprendiamo il filo e avviamo praticamente la manica in che modo ve lo faccio vedere subito io praticamente ho fatto qui un nodino e non è il mio metodo nel senso l'ho visto su un canale youtube come si fa questo nodino che a me mi sembra molto interessante appena mi ricordo il nome del canale vi faccio vedere anche come si fa perché è giusto non è mio però siccome il filato è sfumato un nodino così non risalta neanche allora per non stare lì a fare dei capietti semplicemente mi sono attaccato con il capietto che c'era già e mi porto ad avviare semplicemente la manica prendiamo l'uncinetto entriamo qui nel punto che si idra la base quello che era segnato e andiamo a fare praticamente una due tre quattro e cinque catenelle questa volta andiamo a lavorare in tondo quindi per quello che vi dicevo girate la giacca sul davanti perché andremo sempre a chiuderla così come abbiamo fatto per la borsa clessidra quindi per chi non si ricorda il metodo seguitemi caricate l'uncinetto contate 12 quindi la terza quindi questa prendete un'asola qua caricate di nuovo andate a lavorare metà di una maglia alta prendendo il punto intero non come me metà di una maglia alta caricate ancora fate anche un'altra metà e direte dove la terza la terza è questa qui già avviata adesso andiamo a chiudere passando tramite tutte e tre vedete ho sbagliato che mi sono andata anche a prendere il primo vi ricordate quando caricato adesso andiamo a scaricare a facendo praticamente la seconda maglia alta già da sopra carichiamo l'uncinetto andiamo a prendere questo nasola questo un'altra prendiamo quest'altra e entriamo in questi due quindi praticamente così avviciniamo come dire il punto clessidra è il fatto che qua in mezzo è molto più stretto rispetto ai capietti non vi preoccupate perché quando andiamo a chiudere la riga qui si apre per bene e sembra un punto fatto normalmente adesso continuiamo facendo in questa maniera si carica tre volte noi abbiamo praticamente le maglie altissime che sono formate da quattro punti invece di entrare semplicemente così che dopo si rischia che si raggruppano e non si capisce il punto che si da io ho fatto in questo modo o me ho cercato di dividere questi quattro punti in un modo uguale identico più o meno quindi sono entrate sono ho fatto mettere una maglia alta entrate proprio nel lavoro vedete fate la seconda metà di una maglia alta caricate fate anche la terza così facendo distribuiamo un po la base del nostro punto clessidra e non si raggruppa tutto in un posto solo è perché dopo secondo me con il lavaggio con l'indosso si rischiava che erano tutte attaccate non si capiva proprio il punto di conseguenza fatto in questo modo qua caricate l'uncinetto e semplicemente continuate a lavorare il punto clessidra questo è da fare per tutto il giro manica ok in questa maniera quindi si lavora tutto poi ci richiudiamo qua come si fa capire semplicemente noi abbiamo avviato tutte le righe con le maglie altissime quindi andate avete già come punto di riferimento le maglie altissime una è qua una è qui e così via fino a chiudersi vi faccio già vedere la maglia avviata vedete alla fine dopo si chiude come vedete il punto si apre di conseguenza non si capisce neanche dove l'avvio della riga in realtà è questo ve lo assicuro perché lo so comunque c'è il filo qua quindi è evidente che è quello quindi è molto molto facile evito di farvelo vedere perché tanto chi ha fatto la borsa o comunque ha visto il video della borsa clessidra sa come si fa anzi vi faccio vedere come si chiude la prima riga come aveva detto avviata nella seconda manica entrando sempre nel lavoro e adesso andiamo a chiudere così 7 tranquille vedete il procedimento quindi questa è la maglia metà quindi entro qui che la seconda sono leggermente più piccolo rispetto al lavoro in sé però dopo un po ci fate l'occhio e vado a lavorare una maglia bassissima e in questa maniera come vedete già il punto si allarga per avviare la prossima si fa 1 2 3 4 e 5 caricate una volta saltate le prime due andate qui quindi nella terza ancora centrale la prendete prendete anche un'altra sola quindi caricando andiamo a fare la seconda metà di una maglia alta carichiamo terza metà di una maglia alta a questo punto passiamo con uncinetto tramite le prime tre poi finiamo di lavorare la seconda maglia alta sopra carichiamo per l'ultima volta per questo punto e prendiamo questo che è l'altra tra virgolette baretta del dico il punto per farlo un po più stretto entriamo nel punto che sidra come si fa del solito e chiudiamo eccoci qua e si lavora di righe quindi sul davanti per quanto vi fa piacere avere la manica lunga quindi ci ritroviamo quando io indosso la giacca e vi dirò le righe che ho lavorato perché adesso sinceramente non ho ancora deciso si sarà tre quarti lunga corta ancora non ha deciso quindi ci ritroviamo dopo e sarà una piccola sorpresa eccoci arrivate anche la parte vi faccio vedere indossata la mia giacchina è veramente molto molto minimal perché era un progetto assolutamente estivo come vedete la sto indossando con una panottiera per farvi vedere l'idea generale com'era maniche corte però sicuramente come ho detto nel video potete allungare al vostro piacimento è corta è giusto arriva insomma giusto ai fianchi è abbastanza larga però sapete che il punto che sidra tende a stringersi quindi per un progetto invernale se volete proprio soprapporla vi consiglio di fare qualche centimetro in più guardate anche per la schiena come si modella bene quindi a me mi piace veramente tantissimo poi lasciata molto molto naturale nel senso che non sono andata a riprendere il collo perché è più che giusto poi comunque nel video avete le indicazioni adesso vi faccio vedere una versione di mese a stagione e perché no invernale questo è il secondo indosso che vi faccio vedere indosso sotto una camicia ma potete benissimo o indossare una maglia o quello che avete bisogno necessità tranquillamente poi per la mese a stagione non si sa mai come vestirsi se coprirsi di più o di meno perché insomma la temperatura cambia dopo poco praticamente per quanto riguarda un progetto di questo genere ma con un filato invernale potete decidere oltre ad allungare le maniche che quello che vi ho detto prima di allungare anche per quanto riguarda la lunghezza della giacca come ho detto prima mi arriva ai fianchi ma potete addirittura andare un po più giù sicuramente potete aumentarla anche per quanto riguarda la taglia perché si soprappone ma come vedete in automatico il punto tende a stringersi che sono tutte indicazioni che vi ho detto prima anche al collo il collo potete riprendere creare un cappuccio semplicemente creare un collo un po più ampio era un progetto estivo e resta un progetto estivo per quanto riguarda me perché come vedete è abbastanza minimale piccola non è una giacca molto pesante però ha il suo perché per una giornata come oggi che devo dire cui fa caldo è l'ideale una bella camicia sotto questa giacchina sopra per coprire la schiena che magari non si prende a freddo è l'ideale a me non mi rimane altro che salutarvi e ci vediamo al prossimo progetto mi raccomando come sempre iscrivetevi e fatemi sapere se vi piace quello che ho creato vi mando un grosso abbraccio alla prossima